è nata una stella? questo non lo so, però sulla carta gli ingredienti per fare un buon prodotto c'erano tutti e così ho deciso di acquistarlo ciao a tutti amici e benvenuti sul canale di RobotsGT oggi vediamo insieme questo nuovo prodotto edito da una nuova casa produttrice terze parti la Modfans che ha realizzato come suo primo prodotto siglandolo AL01 appunto il mitico roller, il drone o droide di Optimus Prime noi tutti affezionati ad Optimus Prime ricordiamo questo carrellino a sei ruote che usciva dal rimorchio del leader degli autoroboti e che in più di una situazione ha risolto le sorti del combattimento infiltrandosi nelle linee nemiche in modo furtivo e mostrando grandi doti di stratega era infatti pilotato sia da Optimus Prime ed aveva anche la possibilità di muoversi autonomamente ed era appunto per questo considerato catalogato come un droide Modfans ha approntato tre versioni di roller questo è la L01S che è in grigio metallizzato e rappresenta praticamente la versione anime ma è anche lo stesso che era nell'MP10 dopo abbiamo una versione rosso, blu e grigio che è invece quella che si ispira più direttamente al giocattolo e poi addirittura una terza versione la L01W di sigla che è la versione verde, grigia e rossa che invece si ispira al fumetto io ho preordinato le prime due, la terza la escludo perché non è di mio interesse e finalmente quindi possiamo toccare con mano ed ammirare questo primo rilasciato che è la versione anime in grigio metallizzato rapida occhiata alla confezione è una ventina di centimetri d'altezza quindi non molto grande illustrazioni sobrie abbiamo sul retro e un po' su tutto il packaging varie viste schematiche del profilo di roller tutto in bianco e nero è ovvio scontato che a questo prezzo non ha senso andare a investire sulla confezione e ben venga adesso vediamo all'interno come si presenta il prodotto ecco qua il blister quindi il prodotto si trova in configurazione robotica blister elegante ha una parte nera e una parte trasparente a vetrinetta ma devo dire che è forse meglio di quello che mi aspettavo perché tenendo sempre in riferimento al prezzo quello che può essere il prodotto ma sembra abbastanza onesto diciamo ha un bel colore veramente un bel grigio e le superfici sono tutte verniciate vediamo un attimo che cosa è compreso nella confezione abbiamo questi due blaster questo in realtà dovrebbe essere un saldatore che si collega al tubo di alimentazione del gas e questo sembra più un mitragliatore forse un blaster mitragliatore poi qui troviamo il libricino delle istruzioni appunto con il tubicino e il libricino delle istruzioni un unico foglio ripiegato più volte vediamo adesso più precisamente quelle che sono le dimensioni allora abbiamo un'altezza di 15 cm vediamo ora il peso il peso è di 123 grammi analizziamolo un po' più da vicino vediamo come è realizzato questo roller in configurazione robot allora la cosa che colpisce intanto è il fatto che è interamente verniciato è interamente verniciato in toni e scale di grigi metallizzati quindi abbiamo una tonalità più scura qui e qui una leggermente più chiara su gambe, spalle e avambracci e poi un grigio metallizzato più chiaro per quanto riguarda le cosce l'addome e questi snodi qui dei gomiti anche dietro è abbastanza lineare e pulito quindi vedete come è compatto anche qui le ruote vanno a riempire tutta la parte inferiore delle gambe allora le mani invece diciamo forse sono la parte più semplice risultano essere la parte più semplice in quanto la mano è fissa quindi ricalca un po' la modalità dei legend hanno un'impugnatura prestabilita per afferrare gli accessori infatti si incastra perfettamente però la mano oltre che a ruotarsi come polso non ha articolazione delle dita indipendenti per quanto riguarda i gomiti ha questa doppia articolazione semplicissima ma che fa egregiamente il suo dovere il braccio si chiude praticamente completamente la spalla è libera di ruotare di 360 gradi in più può compiere questo movimento di apertura a farfalla la testa che ha pure un bellissimo sculpt il viso grigio metallizzato con questo visore in azzurro metallizzato ve lo faccio vedere nel dettaglio eccolo qua ve lo faccio vedere nel dettaglio vedete che bei colori inoltre è estremamente mobile per quanto riguarda il busto anche esso è abbastanza mobile può muoversi leggermente si può inclinare qui proprio all'attaccatura superiore degli addominali invece sulla vita in basso ha la possibilità di ruotare quindi come articolazioni non si sono certo risparmiati poi passando alle gambe abbiamo questa configurazione del gunnellino con questi pannellini muovibili che rendono praticamente l'anca liberissima di muoversi in tutte le direzioni manca uno snodo intermedio qui ma è assolutamente sufficiente questo movimento per quanto riguarda il ginocchio invece abbiamo la gratidissima sorpresa di trovare questo cricchetto è veramente granitico questo non si scompone non si scompone è durissimo per quello che è il peso che deve reggere praticamente è a prova di bomba posteriormente escursione è più che sufficiente anche qui c'è questo pannellino che eventualmente si può aprire per questa ulteriore escursione ma senza esagerare perché altrimenti risulta innaturale anche il piede ha questa inclinazione quindi positiva e il piede appena lo tirate fuori dalla confezione ha bisogno che venga aperto a 180 gradi questo pannellino ulteriore che gli dona un appoggio molto buono e voi sapete come io sono molto attento alla stabilità dei modelli abbiamo visto anche nella mia nella mia recensione precedente di fioravanti come questa fosse purtroppo insufficiente per sorreggere quel modello per quanto bello invece qua il piede soluzione semplice ugualmente ma dimensionata opportunatamente per quelle che sono le dimensioni e il peso del modello più che sufficiente e soddisfacente su questo comparto delle articolazioni veramente dimensionato in maniera ottima per quelle che sono le dimensioni e il peso che deve sopportare doverosa l'inquadratura di fianco al suo diretto leader Optimus Prime sempre in scala Masterpiece vedete come dimensioni arrivi praticamente all'altezza qua del bacino di Optimus Prime quindi non è del tutto piccolissimo mi sembra abbastanza proporzionato dun is ho non è che Facciamo passiamo adesso a vedere la trasformazione da robot a roller allora togliamo l'armamentario come prima cosa facciamo sparire le mani apriamo il pannellino inferiore dell'avambraccio ruotiamo di 180 gradi le mani al suo interno ora tiriamo giù la vettorina in questa maniera allontaniamo lo zainetto dalla posizione in basso ora sulle braccia apriamo e ruotiamo questo pannellino che ci dà quindi la possibilità di far combaciare la parte inferiore del braccio con quella superiore stessa cosa dall'altro lato facciamo combaciare il tutto ora possiamo spiegare le ruote qua c'è un altro pannellino all'interno della spalla che va ruotato di 90 gradi in questa maniera e ora chiudiamo l'altro pannellino esterno che lo va ad accogliere ripetiamo l'operazione dall'altra parte ora passiamo sul busto ci facciamo spazio alzando la spalla e mettendo il braccio in posizione orizzontale quanto più possibile quindi possiamo aprire questo pannellino qui al di sotto e ruotarlo stessa cosa dall'altro lato ora pannellino sul dorso sul laterale ruotiamo anche questi di 180 gradi da una parte e dall'altra ora ci dedichiamo alla parte inferiore quindi richiudiamo e compattiamo il piede estraiamo le ruote ora possiamo ribaltare di 180 gradi gamba destra e gamba sinistra una volta ribaltate ci sono questi tab da una parte e gli occhielli relativi dall'altra una volta ribaltati li facciamo coincidere e li chiudiamo in questa maniera ora portiamo verso la parte posteriore questo pack oscillante compattiamo anche quest'altro elemento posteriore rappresentato dalle spalle facendogli compiere questo movimento e poi va ad incontrare il tab della parte centrale che lo porta in posizione anche di qua vedete come il movimento che deve fare su questo snodo che è quello proprio del movimento della spalla sia quello di ruotare verso la parte posteriore e poi una volta avvicinato si deve tornare verso avanti a questo punto il tab coincide perfettamente e lo andiamo a fissare ci rimane da ruotare gli scarichi del roller li mettiamo in posizione ora mandiamo una volta posizionato i due pannellini posteriori in posizione fino a trovare la rispettiva sede dei tab e la trasformazione del nostro roller è completata una volta trasformato compattiamo tutte le parti più o meno allora una volta in configurazione roller possiamo andare ad apprezzare ancora di più dei dettagli verniciati che non sono affatto sottintesi per un oggetto di questo tipo quindi troviamo i fanalini anteriori verniciati in giallo addirittura abbiamo delle gemme laterali in plastica rossa trasparente che è la stessa dell'ampeggiante posteriore tipico dei mezzi di manovra infatti questo roller è adibito anche al trasporto del rimorchio quando non è disponibile c'è Optimus Prime per trainarlo in questa sede si può agganciare il rimorchio si può rimuovere il lampeggiante per non intralciare il rimorchio belli anche questi cerchi che hanno alcune particolarità allora intanto rollano benissimo guardate come come le ruote girano liberamente è veramente divertente giocarci seconda particolarità abbiamo la parte del cerchio in grigio in più è stata è stata impreziosito è stato impreziosito il cerchio con questo righettino rosso che non è niente male e veramente può fare la differenza a livello di dettagli su un oggetto che per la propria semplicità e per il fatto di costare poco questo si deve dire non ci si quasi aspetta che ci debbano essere tutti questi dettagli e invece è ricco di dettagli in più quest'altro piolino qui funge da molla oltre che da fermo corsa ha un effetto molleggiante e quindi è una specie di ammortizzatore ammortizzatore guardate come ha un'escursione le ruote quindi sembra un vero e proprio veicolo lunare un qualche cosa adibito a percorsi sterrati impervi è meglio di una di una jeep 4x4 guardate come ammortizzano queste rotelline fantastico poi possiamo configurare questi due blaster in questa maniera e poterli unire in un'arma più grande che va montata in questa sede posteriore anche altri dettagli qua verniciati dei piedi che diventa lo schienale dei sedili anche qua questo mini parabrezza veramente veramente simpatico considerazione finale avete presente quando di impeto vedete una cosa e decidete di acquistarla senza per questo voler avere delle aspettative alte per questo acquisto bene questo è proprio uno di quei casi in cui lo si prende più per la complicità nell'idea che sembra più geniale della realizzazione senza invece fare a meno di constatare che il prodotto è al di sopra delle aspettative in questo caso sono piacevolmente rimasto sorpreso perché un prodotto del genere che mancava nella linea masterpiece quindi un roller con la possibilità di essere trasformato in robot di ben figurare di essere estremamente rifinito come abbiamo visto ha svariati dettagli tutti i dettagli verniciati l'intero robot è verniciato in grigi metallizzati anche molto curati non ci sono segni di sprue o difetti di stampaggio in più la trasformazione è estremamente fluida e priva di intoppi di incertezze non c'è il rischio praticamente di rompere qualche pannellino cosa che invece ci si aspetterebbe in prodotti così economici è estremamente giocabile lo si può affiancare ad un rimorchio di un mp10 o comunque di un optimus prime delle relative dimensioni masterpiece ne sono veramente entusiasta non peraltro poi troviamo anche questa dotazione di accessori che non sono non sono affatto male perché abbiamo la possibilità di configurare queste armi in blaster in saldatore col tubo oppure a seconda del gioco che vi piace può diventare anche una stazione di rifornimento per per diciamo optimus prime e avete infinite possibilità di configurazione di questo roller addirittura può trainare il rimorchio io raramente diciamo che sono sono così entusiasta per per un oggetto per il quale non nutrivo assolutamente alcuna aspettativa mi ha veramente sorpreso e quindi è inutile che vi dico che ve lo consiglio assolutamente io addirittura dal primo momento in cui l'ho visto in preordine ho subito preso sia questo che la versione la versione toy quindi quella blu e rossa e aspetto con impazienza a questo punto di di vederlo dal vivo e di poterlo confrontare con questo perché secondo me sarà altrettanto bello con quei colori totalmente diversi dei colori più brillanti e lucidi che secondo me lo faranno sembrare ancora più spaziale bene è inutile che vi dico di di acquistarlo prima che sparisca dai radar dei preordini perché secondo me andrà sold out non non molto alla lunga perché come usciranno le prime recensioni e i primi dubbi saranno fugati secondo me tutti si si appresteranno a prenderlo bene anche con questo video è tutto robots.gt vi saluta e vi ringrazia come al solito vi invito ad iscrivervi al canale a spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video ciao ciao ciao